E se un giorno dovessi partire per difender la patria e l'onore, sarei fiero sì di disertare per non dare una mano al potere. Sono quindici mesi di leva regalati tutti al padrone, per i suoi interessi lui è pronto ad usarmi come fossi carne da cannone. Già si muore qui senza combattere, e li chiamano incidenti del mestiere, ma ci ammazzano anche come persone, purattini ci fanno diventare. Ma chi l'ha mai detto che deve essere così, non continuerà poi per molto sta storia. Giuro che prenderò in mano il fucile, solo per portare il popolo alla vittoria. Obedire senza discutere, chi comanda ha sempre ragione, e se provi a parlarci PR ti danno per oltraggio al superiore. Ma intanto nelle caserme cominciamo già ad organizzarci, libertà di pensiero, libertà di assemblea, diventeremo forza e chi potrà fermarci. Abbiamo capito da che parte dobbiamo stare, per dare un senso al servizio militare. Non il popolo in piazza, noi dobbiamo ammazzare, ma chi lo comanda e chi lo vuole sfruttare. Ma chi l'ha mai detto che deve essere così, non continuerà poi per molto sta storia. Giuro che prenderò in mano il fucile, solo per portare il popolo alla vittoria. Grazie a tutti.